Questo è il momento che anche la politica quando magari la prenderà a farlo Questo lo mettono su YouTube Non c'è nessuno Doveva si citita Audio Non c'è Non c'è Ci avviciniamo Ci avviciniamo Grazie a tutti i livelli, a tutti i livelli della rappresentanza sindacale per tutelare innanzitutto il nostro lavoro perché siamo tutti agricoltori e soprattutto proteggere da tutte le falsificazioni del Made in Italy che all'estero ci sta veramente uccidendo, ci sono circa 60 miliardi di euro di falsificazioni che sono quasi tre volte il reale prodotto italiano. Queste cose bisogna dirle, anche di quello che ha introdotto le nostre rappresentanze politiche per farlo presente a tutti. Noi dobbiamo diventare finalmente protagonisti del nostro prodotto, dal produttore e arrivare fino al consumatore, all'insegna della filiera italiana che Coldiretti sta portando avanti a tutti i livelli. Grazie a tutti.